Buongiorno, benvenuti alla seconda puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Abbiamo Alessio Viola, scrittore barese, opinionista, giornalista, animatore culturale da un bel po'. E chi più ne ha più ne metta. Allora Alessio, la prima domanda che ti faccio, ma si campa di scrittura? Assolutamente no, in genere non si campa proprio in questo periodo, anzi è un periodo particolarmente difficile per campare anche solo per sopravvivere. In particolare poi chi scrive sicuramente è condannato a morire di fame, a meno che non sia capace di grandi operazioni commerciali e allora diventa scrittore di successo e allora fa un sacco di soldi. E ha fermato più. Qui mi devi fare ora la domanda, è come si fa a diventare scrittore di successo? Come si fa? Bisogna investire, investire molto. Investire in che senso? Investire in senso finanziario, nel senso che attualmente l'industria editoriale è sostanzialmente industria. Non esiste più l'editore di un tempo, quello romantico, quello che scopriva i talenti, il giovane scrittore, il romanzo nascorso, eccetera. È un'industria che obbedisce alle leggi del mercato, si investe su un prodotto e quindi se c'è il capitale da investire, poi sul prodotto si possono ricavare degli utili. Altrimenti niente, c'è questa fortissima schiera di scrittori che non diventeranno mai ricchi. Quindi non basta più il capitale culturale dello scrittore, la vocazione, eccetera. Assolutamente, io sono convinto che ormai i talenti, se ci sono, anche questo è opinabile, ma se ci sono i talenti sono nascosti in qualche cassetto di qualche casa editrice. Quello che conta è essere un personaggio, soprattutto un personaggio televisivo. Ecco, se sei un comico televisivo che fa le battute pecorecce, grossier, eccetera, eccetera, e scrivi un libro di cazzate avrai successo, ma perché è un investimento anche quello. Il Comico Ren, nelle classifiche dei libri italiani, signori lettori e spettatori, fra i primi 20 titoli, ce ne sono 5 scritti da un comico, pensate un po', questo è lo stato della letteratura italiana. Me li stai allontanando dalla lettura? Sì, no, non leggetto, non serve a niente leggere, perché al massimo leggerete i libri che scrivete, la Litizzetto, Fabio Volco, a quel punto vi vedete un qualunque programma in tv sul divano e state bene. Se in una sera riuscite a vedere Giobbe Covatta, Litizzetto, quello che face Vito Catozzo, non mi ricordo come si chiama, Faletti, e qualcun altro di questi, vi siete visti praticamente la storia della letteratura contemporanea italiana. Quindi state a posto. Quindi a ragione è Ertha Muller, si fa tanta narrativa inutile. Ertha Muller, premio Nobel, recentissimo, del Bayern di Monaco. Un giocatore del Bayern di Monaco, raghettato attraverso l'Inter, Ertha Muller, che dice si fa tantissima narrativa inutile e pochissima letteratura attualmente nel mondo. Sì, per fortuna, insomma, così ci evitiamo anche la tragedia dei giovani scrittori. Domanda, e perché? E perché? Perché un giovane non dovrebbe scrivere? Perché io personalmente conduco una campagna contro i giovani scrittori, essendo un anziano scrittore, molto anziano, in avanzato stato di decomposizione ormai, mi fanno rabbia i giovani che spendono il loro tempo a scrivere, quando potrebbero impiegare molto meglio il loro tempo a vivere. Poi uno, superati i 50 anni, non ha praticamente più niente da fare, ha attraversato le ere della propria vita e quella degli altri, e magari se è proprio una niente di meglio da fare si mette a scrivere. Invece ora i ragazzi hanno quest'ansia di scrivere, a 16 anni, a 15 anni, Melissa P, che ha scritto un libro da 15 anni, insomma, ragazzi, a 16 anni, questi ragazzi scrivono in realtà di letteratura, perché hanno letto un mucchio di libri, benati loro, hanno avuto tempo per chiudersi in casa e leggere libri, 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 e poi rimurgono e li tirano fuori, come i ruminanti, no? Mi viene in mente la parabola di Moravia, che scrive l'indifferente di 17 anni, dopo però una lunga malattia che gli consentì di leggere tanto. E infatti, credo se non ricordo male, è stato in sanatorio. Ebbè, ma poveretto, quello era impedito di fare altro, poteva solo leggere. Ma in questo caso, appunto, che cosa succede? Nel caso dei giovani scrittori, tanti ce ne sono, di talento, bravi, per carità, Questi ragazzi leggono, leggono tantissimo, e sono dei letterati che scrivono, ora, senza essere pedanti, insomma, il letterato è uno che ha letto, che ha studiato, no? Lo scrittore è un'altra cosa. Il letterato ha letto tutto, canti in tedesco, tutto Dostoevsky in russo, e tutto Sartre in francese, e su questo va a fare le sue riflessioni e ci scrive i libri. E fa sfoggio. Ma non è uno scrittore, secondo me, ma insomma, io sono, per la scrittura di strada, sono uno scrittore da marciapiede, il mio ideale è Bukowski, Esatto, il mio ideale è Bukowski, come sapete, uno che è sempre stato disprezzato da tutto il mondo accademico, dai letterati quelli con la L maiuscola. Alessio, parliamo un po' delle tue scritture, perché tu non arrivi tardissimo comunque a scrivere, hai scritto molto su Bari. Sì. A prendo anche dei dibattiti. Io ho aspettato prudentemente i 50 anni, nel senso che prima ho fatto altro, poi, insomma, lavorare stanca, come diceva Pavese, e siccome lavorare stanca, uno si guarda intorno e dice, che posso fare per evitare di lavorare? Quasi quasi mi metto a scrivere. È sempre un buon escamotage per non lavorare, non si guadagna, non si guadagna niente, però almeno ti eviti tanta fatica, perché lavorare, insomma, è un'altra cosa, scrivere non è un lavoro. Sì, poi ho scritto su Bari, perché abbiamo fatto una serie di esperienze, i locali, insomma, la politica. Perché tu sei stato uno dei fondatori della Taverna del Maltese. Mi porterò per tutta la vita questo peccato originale. Sì, la Taverna del Maltese, sono usciti dei libri in cui si parla della Taverna del Maltese, Closing Time, Ghiaccio, ma più che della Taverna del Maltese, mi interessava, mi interessa ancora parlare delle persone, per cui cerco di rubare in giro un po' le vite della gente con cui entro in contatto. Sei un cleptomane della vita altrui. Sì, sì, sono un ladro di vite, sicuramente. Mi piace spiare, insomma, delle vite altrui e parlarne, raccontarle, deformarle, stravolgerle. Certo, io poi non mi preoccupo molto di essere diplomatico, per cui dico sostanzialmente quello che mi passa per la testa, anche sul giornale. Cioè, se poi questo piace o no, non mi interessa. E chi ti segue questo lo sa. Ora, Alessio, una domanda rispetto a Bari. Tu l'hai descritta in un paio delle tue scritture, dei tuoi romanzi. Hai descritto una parte della tua generazione, come questa generazione viveva di ambizioni, di vocazioni, anche politiche, di desiderio, di socialità, quindi di stare insieme. Che cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Beh, tutto, tutto. Nel senso che è cambiato completamente quello che si chiamava il contesto, il contesto sociale, la situazione. Oggi la nostra epoca è l'epoca della globalizzazione. Globalizzazione che è culturale, economica, finanziaria, comunicazione, di tutto. Io sono nato dopo la guerra, pensate un po', qualche anno dopo la seconda guerra mondiale, chi se la ricorda, nessuno. Sono nato nel bianco e nero, sono nato, quando andavo a scuola io avevamo il pennino con il calamari, pensate un po'. Sei nato con il grande cinema di massa. Con il grande cinema, che è il grande cinema di massa? Con il bel cinema. Mi dicono che sono nato anche con il bel cinema, non lo sapevo. Tu non ci andavi? No, ma io andavo a vedere Ercole e Maciste, cioè il nostro cinema d'autore erano i filmoni in costume, andavamo alle tre di pomeriggio al cinema a vedere Ursus, Maciste, Ercole, i Romani, i Cartaginesi, insomma. Che non era male, insomma, come cinema, rispetto a tante porcherie che si vedono oggi. Quindi il contesto è completamente cambiato, trasformato, non ci sono secondo me ormai paragoni possibili, a meno che poi non si finisca nella nostalgia, quindi prima era più bello, ma non è vero che prima era più bello, era un altro mondo. Quello che io ho ritrovato nei tuoi libri, quelli che hanno preceduto l'ultimo di cui parleremo nella seconda parte di questa puntata, è appunto il desiderio di compiere un viaggio. Anche restando fermi talvolta. Tu temi che la globalizzazione in qualche misura abbia soffocato questo desiderio? Sì, perché mi ricordo, in primi te, quando è comparso nelle nostre vite questo mondo di internet, un po' di anni fa ormai, si diceva che questo mondo è bellissimo, perché tu stai a casa e puoi andare a vederti un museo ad Amsterdam. Sembrava una novità straordinaria. Poi, col passare degli anni e con l'abitudine a questa dimensione virtuale, credo che la prima riflessione da fare è questa, che nessun software raffinato nella maniera più incredibile potrà mai sostituire il piacere di mettersi in una macchina, in un treno, su un aereo, su una motocicletta, come ho fatto io all'epoca, farsi due o tre mila chilometri, andare ad Amsterdam e andare al museo Van Gogh, che si chiama Vincent in realtà, non si chiama museo Van Gogh, si chiama Vincent, proprio così, e vedersi i quadri di Van Gogh. E' un'altra cosa. E' avere un rapporto caldo con l'opera d'arte. Certo, da questo punto di vista, insomma, il viaggio vero è ancora, credo, l'esperienza più forte che si possa fare. Per quanti aeroporti tecnologizzati uno possa attraversare, alla fine ci sarà sempre un omino con cui avrà che fare. Quello del controllo, quello del tassi, quello del negozio, con chi ti pare. Ma il viaggio continuerà a passare attraverso il rapporto con le persone, per fortuna, almeno questo. Alessio, una domanda polemica. E vorrei che tu polemizzassi, non con la domanda, ma con quella che è la realtà dell'editoria e della scrittura in Puglia. Ma io sentivo ieri, con molto interesse, il vostro incontro con Gilda Melfi, che davvero credo abbia spiegato molto bene come funzionano questi meccanismi. Loro, i presidi del libro, per esempio, lavorano per formare il lettore, che mi sembra che è decisamente la cosa più importante, perché noi non abbiamo bisogno di scrittori. Nel senso che siamo tutti scrittori, tutti scrivono. Tu scrivi libri di successo, io di insuccesso, ma insomma, è lo stesso. Tutti quanti scriviamo. Mediamente, l'altra sera, per esempio, tu eri alla Feltrinelli con noi, nel pubblico, non lo so, 100 persone, ci erano stati 80 scrittori, credo, ho calcolato più o meno. Quindi non abbiamo bisogno di scrittori, abbiamo bisogno però di lettori. E meno male che esistono associazioni come i presidi, o chiunque altro, insomma, promuova la formazione del pubblico dei lettori. Cioè la capacità di leggere. Una pedagogia della lettura. Ma sì, ma se noi riuscissimo ad avere finalmente qualcuno che, primo, abbia il coraggio di non guardare Fazio e la Litizzetta, che sono inguardabili, insopportabili, quattro cazzate, ma noi stiamo lì a dire la Litizzetta è bravissima, va bene. Ma poi quella scrive pure i libri. E allora, se uno non ha il coraggio di usare il telecomando, almeno abbia il coraggio di non comprare i libri della Litizzetta. Questo significa formare il pubblico, no? Non dico che tutti debbano andarsi a leggere Dostoyevsky in russo, ma Dostoyevsky in italiano si può leggere, no? Ancora oggi fa bene. Approfondiremo meglio nella seconda parte della puntata questo discorso su scrittura e parleremo della tua nuova fatica. Va bene. Grazie a tutti.